Signori vi do nuovamente il benvenuto sul mio canale, eccoci qui oggi con un nuovo video, siamo tornati su Battlefield 4 Di conseguenza vi propongo due gameplay su Ataku di Nansa, se si pronuncia così non mi ricordo E Mercato delle Perle con un fucile che non avevo mai utilizzato su Battlefield 4, ovvero l'RPK-12 Mi era capitato così di vedere qualche video su Youtube, visto che comunque aveva anche una buona stabilità, ho deciso di provarlo Purtroppo non ho sbloccato l'RPK base, avevo solo l'RPK-12 che, oddio, non credo che cambi molto Però poi avremo a sbloccare anche quello base Ultima cosa prima di lasciarvi al video, non sto tanto bene a livello di salute ultimamente Quindi, oddio, questo video dovrebbe uscire lunedì, ma mi sa che non ce la farò Di conseguenza credo che uscirà mercoledì A parte questo, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, lasciate un bel like nel caso vi fosse piaciuto E nulla, vi lascio al video, buona visione Pela madonna, già così Cazzo, ce n'è uno qui, no, no, vai sotto, vai sotto che mi vede Eeeh, ne è apparso uno dietro Non mi ha visto Non mi aveva visto, che pirla Sì, ma avranno qualche segnalatore per ris... eccolo, guarda Mi dimentico sempre di quanto sia basso il time to kill su questo gioco Eeeh, mi è andata a puttane proprio la mira, minchia, è molto diverso dal 5 Aspetta Cazzo No, no Aspetta Eh, stavolta l'ho preso però, eh Cazzo Cazzo, no, 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 niente, fai il giro, fai il giro Perché che sbarretta? Eeeh, via, non si sbarretta oggi Minchia, il QBS Aspetta Era quello di prima, mi sa di sì, eh E mori, mazza che bello sto gioco Non è proprio il massimo la mappa, cioè nel senso esteticamente molto bella Ma hai pochi punti per ripararti Poi gli spawn, come ho sempre detto, su Battlefield 4 sono veramente critici Vedo gente lì sotto Sono andati lì dentro, diamogli una mano Preso Occhio, occhio che ce n'è ancora, eh Vabbè, assistenza, dai Eccolo, eccolo Assistenza Devo ringraziare Dice pur qui, ma sì, dai, grazie Dice Madronna Non l'avevo visto Non l'avevo visto Aspetta, aspetta No, c'è uno che mi sta sbarrettando Occhio Hanno pure lo spawn qui Madonna mia Come l'ho umiliato Come l'ho umiliato questo A casissimo Aspetta, aspetta Che qui un'imbarcazione sta per scendere Eh, t'ho visto, zi Mi dispiace Mazza, guarda qui come si va di squadra Guarda, guarda Ste cose sul 5 Proprio te le sogne Non mi garba molto come mappa Perché ti sposta su varie isole Capito? Quindi quando devi attaccare È molto difficile Perché sei esposto come un balcone Porca puttana Cazzo Preso Anche questo è nemico Eh, niente Non mi è morto Sei di salute Bello, cazzo Aspetta, aspetta Abbiamo gente sul lato destro No, ci vado a fare una visitina Eccolo Un'assistenza Cioè, ho avuto una mira di merda Non lo metto in dubbio Mi è caduta la mira Ciao, bello Occhio, occhio Non lo vedevo più, ragazzi C'era il fumo davanti Lui mi vedeva Va bene, dai Va bene Ok, occhio, occhio Che ce n'è ancora Finita la partita Oddio Abbiamo fatto veramente schiva Però vabbè, ci sta Bisogna abituarsi È piuttosto normale Con il fatto delle sensibilità Smiro tantissimo, eh E purtroppo abbiamo pure perso Sì, di pochissimo, eh Quello sì Abbiamo fatto comunque Diciamo che il 14 morti È abbastanza deludente Ma ci rifaremo Oh, e mori Cazzo Sì, ero piuttosto lontano Questo sì Cazzo, quest'arma è veramente precisa Comunque, eh Fatto Precisissimo Cioè, non sbaglia di un colpo Sto coso Cosa che qua mi ritrovo gente Occhio Bello Col fatto del time to kill Molto più basso La collaborazione su questo gioco È ancora più fondamentale Di quanto non lo sia Su Battlefield V Gli spawn Fanno sempre cagare Cioè, ne avevo tre dietro Ne avevo, eh Ciao, bello Preso Mi ha un potere d'arresto assurdo Cazzo Madonna Come l'ho steccato Così si scacciano gli scarafaggi Vedi, eh Ciao, bello Fra Cazzo Eh, con tutto il polvischio Che si solleva Non si vede più nulla Preso Sì, volevi Oh, quante cazzo Ne ha lanciati di granati Pur di fare una kill Le avrà finite Immagino, no? Eh, le ha finite, sì Gol magnum Fizia che legnata Si è preso No, la granata qui Madò che legnata Occhio Fatto Ciao, bello Eh, vabbè Sono là che aspettano Vabbè, uno l'ho fatto Dai Ma dai Ma come cazzo Si fa giocare così Figa Fatto Ciao, bello Mi ridei la kill Basta fare spoon kill Che non è code Te la tolgo io la voglia Madonna Che legnata E quello? Ciao, bello Mica, lagga un po' In questa zona della mappa C'è altra gente di qua Occhio Basta fare spoon kill Preso Io qua so spawnato Occhio, occhio Uno qui dietro Da dove esce? Eccolo, vai Lì nell'angolo Guardalo Vi dai un bel headshot Madonna Che steccate Queste scale sono maledette Perché ti passa davanti gente E neanche te ne accorgi Preso Cazzo Ho avuto culo, eh Che lui ha smirato Perché se no Guarda quello Eh, mo te ne vai a fanco Muoversi per il mercato È molto pericoloso Minchia, ma Vedi come deve fare Il fucile a pompa Non come su Battlefield 5 Che sono tutti hitmarker Sui raccomandati di merda Avete visto? Cioè, gli unici hitmarker Che ho fatto È perché il nemico Era veramente lontano O ho mirato male Ma per il resto Cioè, non mi posso lamentare Vedi? Shottato Fine Eh, ho mancato Qua l'ho mancato Lagga tutto Quello è il problema Cazzo, questo gioco Sarebbe da provare Su PS5 60 FPS fissi Quando prenderò PS5 Ve lo riproporrò Questo gioco, eh Aspetta Questo vuole prendersi Una pompata Guardalo Cazzo Eh, vabbè Ero appena sponato Porco Perchè che tira colpi Di doppietta Ma ma È un nemico Questo Che cazzo L'aveva visto Ciao, bello Vedete quanto sono goffo Nei movimenti Ci sta però, eh Non essendo abituato Occhio uno qui dentro Appena esce è morto Se esce è morto Te l'ho detto Te lo dicevo Ora capisco perchè su Operation Locker Lo bandiscono Sto fissile Le claimo Avevo sparato, eh Però pazienza Ed ero appena spawnato pure Li spawno su sto gioco Sono la cosa più brutta Che io abbia mai visto Mori Ok Minchia Che legnata Cazzo Questo doveva morire però, eh Cosa? U6C Cazzo Due colpi, eh Vi ho dato due colpi È strano Preso Preso Guarda quello Preso Preso Questo si sta inclinando Alla Rainbow Six Guardalo Arca troia Eh bravo Stai lì ad aspettare E butta la tua vita nel cesso Va bene Che cazzo vuoi Ma no Dubbino di seno Io Minchia che legnata Ciao bello Cosa? Ma come ha fatto a non morire? Cazzo Ne ho appena parlato prima Che qui i colpi entrano E quello come ha fatto a non morire? Cioè non lo so, eh No cazzo No cazzo Proprio da lì doveva spuntare quello No carica Carica un secondo Sono tutti qui, eh Che mira di merda Carica Muoviti Niente Non lo riesco a prendere quello L'avevo colpito Non dire puttanate Non dire puttanate Che mincazzo, eh Minchia E uno col pompa E ce n'era un altro Minchia bella kill Basta Tu con l'M4 Non hai rotti i coglioni Cioè io vi faccio notare Quanto sta andando il gioco, eh Vi faccio notare Aspetta Ok un altro Minchia Era appena spawnato Poverino Non male Dai Non male Comunque Su questa mappa Siamo riusciti A recuperare La brutta partitaccia di prima Il problema Della mappa di prima Come vi avevo già spiegato È su isolotti Capito È facile essere Anche presi di mira Da un segno automatico Lo sapete che su questo gioco I segni automatici Hanno un danno Pazzesco Incredibile Forse anche Buggato Sì forse anche Buggato Comunque dai Non ce la siamo cavata Così male Una cosa però Ho notato su questo gioco Tra l'altro abbiamo fatto 54 kill 26 morti Però una cosa che ho notato È che su questo gioco Non rianima Nessuno Non so cosa sia successo Perché In due partite Non ne ho ricevuta Neanche una E sono tutte partite Da 2000 ticket È assurdo Come sempre ragazzi Io vi ringrazio Per aver seguito Anche questo video Vi ricordo di passare In descrizione Perché c'è il link Per il sito Delle live streaming Sapete Non si può dire La parola che inizia Per la T E non sto dicendo Troia A parte gli scherzi Vi do appuntamento Con un prossimo video Ci vediamo alla prossima Un saluto a tutti Sì Grazie a tutti.